Ciao, siamo a Francoforte, Music Messe 2012, stand Yamaha. Oggi parliamo dell'OZEROMA V96I-OI, a seconda della pronuncia inglese e italiana. La novità rispetto al predecessore, cioè l'OZEROMA V96VCM, è che, oltre al colore, è stata aggiunta una funzione molto importante, cioè una connessione USB che consente 16 in, 16 out, con un driver molto efficiente, sviluppato in collaborazione con Stainberg, quindi Yamaha Stainberg. Un'altra cosa importante è che, rispetto al predecessore, appunto il WCM, sono stati sbloccati dei plug-in che c'erano all'interno, quindi tutti gli effetti WCM, che ormai conoscete molto bene, adesso sono nella loro versione completa. In particolare sono stati implementati Vintage Stomp, sono stati implementati Master Channel e Strip Channel. Questo vi consentirà, sia dal vivo che in studio, di utilizzare la macchina con una grande potenza di DSP. Diciamo che lo 0.996VCM si è sempre contraddistinto anche per avere delle ottime caratteristiche di remote controller. Le possibilità sono infinite e in bando c'è anche Cubase AI5, che supporta anche lo Studio Connection, che ormai conoscete bene. Lo Studio Connection sostanzialmente si tratta di integrare l'editor all'interno di Cubase, quindi quando salvate il file CPR, in realtà salvate anche i dati dello 0.996 che potete spedire oltreoceano senza dover portare dietro la macchina. Questo è tutto per lo 0.996. Ciao!